Grazie per aver accolto il nostro invito a questo evento che abbiamo organizzato per non solo festeggiare i 30 anni della nostra azienda Zucchetti Centro Sistemi, ma soprattutto per condividere con imprenditori, esperti, professionisti che operano anche in settori diversi tra loro il concetto di innovazione. La nostra azienda è illuminata da questo punto di vista e ci siamo accorti però che molte altre aziende stanno iniziando e perseguono questo percorso. Per cui ecco ci piaceva condividere in modo trasversale questo concetto di innovazione, come le aziende affrontano questo percorso e come l'innovazione è un modo per crescere e migliorare la propria impresa. Allora direi subito di iniziare, compleanno, 30 anni di attività, 30 anni di una vita vissuta pensando a quello che poteva succedere domani. La mente, il cuore, l'anima, anche il braccio perché tante volte ha iniziato facendo da solo, anche aprendo la porta da solo, ora gliela aprono. Il presidente di Zucchetti Centro Sistemi, Fabrizio Bernini. Ci siamo, Fabrizio Bernini appunto tutto nasce dalla sua voglia di guardare sempre al domani. Nasce la Zucchetti Centro Sistemi come azienda di software e da lì poi sono presto cambiati gli obiettivi. Perché, Fabrizio? Che cosa è successo che ci ha portato poi a questo compleanno? Diciamo questo, che io sono nato creando un'azienda informata senza aver fatto informata, perché io vengo dal mondo dell'elettronica e poi chiuso l'azienda dove lavoravo, quindi ero dipendente di un'azienda e mi misi per poter continuare a vivere in questo mondo e ho detto che bisogna fare qualcosa di diverso da quello che comunque facevo. E mi ero messo per conto mio a iniziare a imparare a fare la programmazione, imparare le linguagge, imparare i programmi, iniziare a fare dei programmi, che ero solo ovviamente su questo, e dall'inacque. Però è nato sempre tutto con la passione di creare cose nuove, con la passione proprio di non fare quello che già esiste, la passione di non fare quello che comunque ho già visto. Io definisco l'innovazione un qualcosa che tutti vedono, tutti si vede la stessa cosa ma ben pensato in maniera diversa. Quindi tutti vedono e nessuno pensa. Quindi questa è l'innovazione vera. E poi per il discorso di aver fatto le quattro divisioni dell'azienda, l'ho fatta proprio perché nel 2001, mi sembra, nel 2002, quando è venuto l'euro, venne fuori che è come se lo stesso giorno uno comprasse tutti, tutti comprasse le macchine, la nuova, che ero per cinque anni, chi fa le macchine non vende più niente, perché di fatto quel giorno lì era una barriera, no? Quindi mi preparai due anni prima a fare qualcosa che poteva dare una mano a questo cambiamento, a questo abbassamento di mercato che sarebbe stato nei cinque anni successivi all'entrata dell'euro. E questo ci ha aiutato poi a creare, ovviamente, nacque prima con l'automazione industriale e poi con la robotica. E questo poi ci ha portato il successo che oggi ovviamente abbiamo nel campo delle macchine e dei robot, in una maniera estremamente innovativa, tenendo conto anche l'innovazione sull'ambito software, ovviamente, perché l'ambito software per noi rimane sempre il core vero, quindi oggi aver sposato pienamente le app, e dopo vedrete, aver sposato il fatto di poter uscire possibilmente con gestionale, che comunque può lavorare su tablet e non più su pc, perché voi non so come la pensate, me la penso che fra qualche anno i pc non ci saranno più, quindi è chiaro che tutto questo cambia in modo di vedere e di fare informatica, quindi al di là poi della robotica e dell'automazione. Attualmente noi stiamo progettando con dei sistemi GPS e GLONAX, GLONAX come sapete sono satelliti russi, anche questa è una cosa all'europea, considerate che Galileo doveva uscire nel 2011-2012, poi nel 2013, poi nel 2014, parlo nel 2019. Nel frattempo c'è GPS, ovviamente conoscete, che è il sistema satellitare americano, e l'anno scorso anche GLONAX, che è il sistema russo, e quest'anno apri cinesi, forse il 2018 anche l'europea, questo per far capire ancora quanto siamo un po' indietro su questo tipo di tecnologia. Però aiuta questo perché noi abbiamo un sistema che abbiamo tra l'altro il know-how ripreso da un'azienda francese che abbiamo portato qui in Italia, riportata in Italia, quindi questo è importante, abbiamo preso questa azienda francese dove abbiamo il know-how all'interno per fare oggi, e abbiamo già delle macchine che lavorano su questo, GPS a 3 cm. Quindi praticamente io posso programmare una mappatura con una precisione di 3 cm, che è abbinata a un sistema ottico che stiamo portando avanti con altri ingegneri, abbiamo la possibilità di poter fare navigazione sia indoor che outdoor con questa precisione. Macchine già esistenti, quindi noi abbiamo fatto adesso un cingolo da un metro e mezzo per andare in agricoltura e lavorare all'interno delle vigne, perché niente più semplice e di più, diciamo, matematicamente ripetibile è di una vigna, perché è matematica. Quindi si fa la mappatura della vigna e questa macchina dovrebbe coprire 20 ettari di vigna tenendo sempre pulito la vigna e l'interfilare, senza uomo a bordo, ma semplicemente con dei sistemi ovviamente di batterie che va automaticamente a ricaricarsi quando sono finite e poi riparte dal punto in cui sarà fermato. Fabrizio, stiamo parlando di questi 30 anni di attività, 30 anni di carriera, 30 anni di successi, ma in questi 30 anni c'è un'idea che ha avuto qualche di un altro e ha detto la volevo avere avuto io? Sì, ci sono le idee che chiaramente si possono trasformare, anche all'interno dell'azienda c'è tante persone, tanti tecnici, tanti ingegneri che comunque mettono il suo e hanno questo tipo di creatività che sta piano piano formandosi e venendosi. C'è già il fatto che per esempio io al momento in cui fa un prodotto e va in produzione non ci pensi più, per me è una grande cosa, no? È una grande cosa perché c'è degli ingegneri che riescono a sviluppare anche una creatività all'interno dell'oggetto, come di un software ovviamente, che portano avanti da sé. Io per esempio anche in settore gestionale sono anni che non vado a dire cosa si può creare, ma vedo che le osse vengono create e sono innovative per il mercato che attualmente ovviamente è l'attesa del mercato stesso. Quindi questo mi fa un grande piacere e a me magari mi piace poi pensare e sognare quello che farò domani. Quindi finora è stato software, è stato robotica, automazione e il futuro? Non ho detto la sanità, ma comunque va bene, non scherzo. No, diciamo il futuro secondo me è la meccatronia, io sono fissato in questo. Oggi è anche fra le vostre aziende, so che c'è molte aziende, io penso che fra i dieci anni non si frirà più di un'eccellenza e basta, ma all'interno dell'azienda occorre più eccellenze per poter stare sul mercato. Io invece, ecco, la meccatronia per me è stato il toccasana, cioè quello che mi ha fatto pensare che oggi avendo avuto solo elettronica o solo informatica o solo software si sarebbe avuto dei limiti. Invece avendo queste sinergie fra le divisioni e lavorando sulla meccanica, l'elettronica e il software all'interno dello stesso gruppo, ecco si può accedere veramente a delle tecnologie di innovazione che magari altri hanno difficoltà, anche se più grossi, a poter realizzare. Noi stiamo lavorando per esempio su un progetto interessante che è il trasporto marino senza uomo a bordo, di piccole quantità di merce, no? E non è difficile con questo tipo di tecnologia. Noi adottiamo la stessa tecnologia, c'è su Ambrosio, GPS e Glonax e io a primavera, credo non passare, conoscendo il gruppo in cui si sta lavorando, non credo passare il 2016 senza fare questa prova. Cioè portare per esempio un tender, un tenderino da barca, un tenderino da due metri, tre metri, con due o tre quintali di roba sopra, quindi merce anche se, che parte dalla Toscana, va a Olbia e poi ritorna in Toscana. Totalmente in piena autonomia. Penautonomia significa con due pannelli solari sopra, semplicemente da 300 watt l'uno, quindi con un kilowatt riesco a far girare l'oggetto circa 3-4 nodi, no? Con un sistema GPS Glonax, ma abbiamo la precisione che abbiamo a 3 centimetri, posso trasportare la merce, sarebbe la prima merce che trasporto gratuitamente dal continente all'isola, semplicemente bio, semplicemente sfruttando solo e esclusivamente l'energia solare. Perché la notte, con un sistema che abbiamo fatto di tre motori che stanno sull'acqua, che è al girare, la notte quando sto finendo le batterie, ovviamente le correnti mi porterebbero via l'oggetto rispetto alla traiettoria, l'oggetto si ferma e tiene la posizione finché ritorna il sole il giorno dopo, no? O ritorna alla luce il giorno dopo, per poi ripartire dallo stesso punto e riattraversarlo. Dalla mia c'ho il fatto di non avere fretta, perché non c'ho nessun uomo a bordo, che non dà fretta di portarlo di là nell'arco di un tempo, ma può essere un tempo per due o per tre senza nessun problema. Questa è una cosa che ci sto lavorando, sto lavorando giorno e notte, da quando sono tornato dalle ferie per questa stapazia, e ora vediamo un po' come prosegue. L'idea vincente già non è bisogno, no? Io quando ho portato Ambrogio nel mercato, come sto facendo con Nemo, sto facendo con queste app, come sto facendo con dei software, perché ripeto oggi nei software c'è tantissima innovazione, a servizio della tecnologia, quando dico considerate che fra cinque anni baserà a dieci, non credo di arrivare a dieci, non ci sarà più computer, immaginate voi, nella vostra azienda, cosa significa una trasformazione informatica, no? Però c'è un testimonio che qui dentro possono dire che con le app fanno delle cose oggi che tramite le nostre, non alla mia creatività, ma alla creatività dei tecnici che esistono in azienda, fanno le cose estremamente egregie, e io pensavo già che nel 2016 riuscire con delle piccole gestionali fatti solo e desclusivamente con i tablet, senza avere più pc. Quindi cosa significa questo? Che non ho più posizione, quindi non ho più ufficio. Io sono in America e quei tablet, che io basta abbia dai cloud, ma anche su internet, sono come se fosse un ufficio, perché è il pc che mi limita su questo, no? E questa è una cosa veramente che fa riflettere molto. Io ringrazierei di cuore proprio Fabrizio Bernini per tutto quello che ci sta regalando, che ci ha regalato da 30 anni a questa parte e ancora auguri a tutte le belle idee che Zucchetti Centro Sistemi potrà partorire. Grazie a tutti, grazie davvero, grazie. Allora noi invece continuiamo, andiamo avanti con un nuovo argomento, il tema di questa nuova sessione Natura e tecnologia, un binomio vincente. Prego accomodarsi, l'ingegnere Tommaso Soddi per Zucchetto Centro Sistemi, il service manager della divisione robotica, il Gianluca Cristoni, titolare di Latifolia Group, la dottoressa Giulia Giuffrè, responsabile marketing, nonché titolare di Irritech, li ho detti tutti? No, manca il dottor Mario Fiorentini della Bottos. Gianluca Cristoni, chi è Latifolia Group? La Latifolia Group è una realtà che nasce da un'azienda agricola, quindi ha questa matrice, che si è evoluta negli anni ed è passata dalla produzione di piante ornamentali in modo anomalo, derivante da un bisogno, perché avevamo la qualda acquifera molto alta, quindi siamo stati tra i primi a produrre piante esemplari fuori suolo, fino ad arrivare a percepire anche nuovi bisogni che il mercato generava o chiedeva. E da qui abbiamo cominciato a entrare in un settore un po' particolare, e cioè il mondo della comunicazione e il mondo delle fiere, per cui abbiamo cominciato quasi vent'anni fa ad utilizzare le piante come strumento di comunicazione, oggi serviamo i principali quartieri fieristici, oltretutto anche all'interno di questo contenitore abbiamo operato nel parco della biodiversità, di fatto abbiamo costruito in un tempo veramente molto ridotto perché ci hanno dato poco più di due settimane quello che vedete qua fuori. Per me è oggi motivo anche di orgoglio e anche un po' di emozione, devo riconoscere, perché la parte degli allestimenti di fatto nasce grazie a un incontro con Paolo Burali qualcosa come 15 anni fa, cioè il nostro primo vero e importante allestimento fieristico, oggi qualcuno parla di marketing ambientale, cioè la comunicazione oggi sul verde è evidente, palese, nasce proprio con la Zucchetti, quindi sono un motivo molto più libero. Dopo allora rientriamo in merito, mentre Irritech, la dottoressa Giulia Giuffretti. Buonasera. Chi è e che cos'è Irritech? Irritech è un'azienda che è nata nel 1974 ed è stata una delle prime aziende da aver introdotto in Italia sistemi di microirrigazione. È nata in Sicilia, in una ridente cittadina di nome Capodorlando, che è più conosciuta per il turismo balneare, però la Sicilia sicuramente è un luogo dove per l'esigenza dell'acqua, del risparmio dell'acqua e anche per lo sviluppo dell'agricoltura è stata l'ideale per far sì che venisse un po' l'idea. Quindi anche per voi un bisogno, da un bisogno è nata poi la vostra volontà. Esatto, la domanda di prima rispondo dall'esigenza del risparmio idrico è nata questa idea di sviluppare l'irrigazione, la microirrigazione, quindi un tipo di irrigazione al massimo efficienza irrigua. Buonasera a tutti, Bottos è un'azienda friulana che dà oltre 100 anni di attività e negli ultimi 20-25 anni ha concentrato il proprio business su quello che è il tappeto erboso o meglio su quelle che sono le essenze, le varietà, le specie che servono proprio per andare a costituire questi tappeti erbosi e non solo perché poi ci siamo anche interessati di inerbimento, inerbimenti di aree degradate, di aree di nuova urbanizzazione e anche come ultimo spazio quello del ripristino dei terreni, l'inerbimento dei terreni vocati all'agricoltura specializzata come si parlava prima dei vigneti. Quindi sementi. Sementi sostanzialmente. Perché è importante partecipare e esserci a iniziative come questa? Allora, noi crediamo tantissimo in queste forme di interconnessione soprattutto tra le aziende perché di fatto noi alla fine come azienda non siamo altro che un facilitatore, un ottimizzatore, cioè per fare un'area come questa che vediamo e con quello che circonda abbiamo avuto la necessità di interagire con diverse tipologie di aziende tra le quali Votoossa, Iritec quindi è normale che in momenti come questi dove si parla comunque di innovazione, di prospettiva, di natura legata alla tecnologia per un'azienda come la nostra che fa una ricerca costante sui timi vegetali siamo stati tra i primi a stabilizzare le piante cioè per dire noi oggi in allestimenti temporanei riusciamo ad andare in verticale in orizzontale con piante che non necessitano di acqua per dire perché comunque sono state bloccate in una fase vegetativa ben definita per cui stavo dicendo momenti come questi sono importanti anche per conoscerci tra di noi perché banalmente oggi abbiamo portato per quel che mi riguarda in termini di conoscenza un po' i leader di una filiera tutta italiana del verde quindi la tecnologia si sposa con settori che apparentemente nella loro verticalarità non hanno un'interconnessione invece sono il frutto poi di una visione più organica cioè per dire l'ambrogio non è altro che la parte finale di una filiera ed è quella che gestisce poi il tappeto erboso che loro preparano quanto si deve investire per poter garantire una tecnologia che possa poi permetterci di lavorare nel tempo? Beh tanto per l'irrigazione a goccia il nostro settore è una barriera all'entrata assolutamente l'investimento in tecnologico noi di continuo investiamo in particolare aggonciandomi al discorso di ecosostenibilità l'irrigazione a goccia in che modo fa risparmiare acqua dov'è che la tecnologia dov'è che dobbiamo investire nel gocciolatore quindi tecnologia del gocciolatore quanto più è tecnologico più noi riusciamo avere un prodotto di qualità e risparmiamo più acqua e poi nell'automazione questo magari posso dare un'idea alla Zucchetti perché no? Perché automazione perché automazione di tipo evoluto in quanto un conto è dare due ore di acqua ok? metto due per due ore un conto è dire no, io controllo con dei sensori come sta la pianta quanto è stressata a livello idrico e lì decido quanto volume di acqua dare qual è il futuro? che cosa su cosa state puntando in questo momento come Iritec? noi stiamo puntando tantissimo nel attraverso seminari attraverso dei campi dei campi mostra stiamo cercando di diffondere la cultura dell'irrigazione a goccia e stiamo anche puntando su una strategia di distribuzione differente nei nostri stessi kit per esempio abbiamo fatto un kit di irrigazione pronta irrigazione che abbiamo realizzato per i paesi africani per fare progetti in Africa perché lì comunque ovviamente non ci sono distributori dobbiamo fare direttamente il progetto e dobbiamo farlo nel modo più semplice possibile affinché poi abbia effettivamente un valore abbiamo creato questo kit lo stiamo strategicamente distribuendo anche alle famiglie quindi un lavoro anche per i privati si quindi un kit di irrigazione pronta si chiama irrigò che chiunque può acquistare e fare il proprio orto o giardino di casa per proprio diffondere il concetto di risparmio e irrigazione a goccia certo lei ci dà il seme giusto i miscugli il seme che è fatto di miscugli diciamo che l'obiettivo che ha sempre focalizzato l'azienda è stato quello di ricercare dei miscugli che riuscissero a dare delle soluzioni a risolvere i problemi sia di chi creava i prati sia di chi i prati ce li aveva poi nella casa quindi bisognava coniugare quelli che erano gli aspetti estetico ricreativi e funzionali con quelli che erano gli obiettivi proprio che BOTOS persegue tenacemente che sono quelle di cercare di andare a proporre dei miscugli il più sostenibili possibile più in equilibrio in sintonia con l'ambiente e qui ovviamente siccome si parla di semi noi non è che possiamo fare granché nel senso che non possiamo predeterminare delle cose dobbiamo subire un po' quello che queste piante pretendono o vogliono però la ricerca di enti e di aziende specializzate proprio nell'ibridazione ha consentito di trovare nel tempo delle soluzioni che hanno permesso ad esempio di trovare delle varietà dei genomi che garantiscono una certa tolleranza alle malattie che garantiscono resistenza del tappeto del tappeto erboso alla carenza idrica e quindi siamo andati sostanzialmente incontro a quelle che erano proprio le esigenze di ecocompatibilità anche del tappeto erboso perché abbiamo così ridotto quelli che sono i trattamenti abbiamo così ridotto le necessità di acqua di irrigazione e quindi siamo andati sicuramente verso quello che era l'obiettivo di trovare dei tappeti erbosi che non fossero solo verdi che non soddisfassero solamente l'aspetto estetico e funzionale ma anche fossero in sintonia con quelle che sono le tendenze e le novità insomma e di conseguenza c'è anche un risparmio proprio dell'acquirente perché consumi meno d'acqua hai meno malattie non devi comprare ovviamente bisogna vedere il discorso a 360 gradi perché ovviamente una ricerca sui miscugli e sulle sementi e sulle varietà che hanno queste caratteristiche ovviamente è una ricerca che costa una ricerca molto impegnativa anche perché i risultati non si ottengono da un mese all'altro ma ci vogliono anni perché bisogna ovviamente seguire quelle che sono le tempistiche i tempi che la natura i vostri investimenti sono tutti rivolti proprio verso la ricerca in questo senso sì verso la ricerca verso la continua evoluzione verso l'obiettivo di avere questi prati irrigabili in maniera molto limitata che riescano quindi a sopravvivere anche alle stagioni più secche più aride e con caratteristiche di resistenza alle malattie che sono l'altro problema grosso dei tappeti erbosi e poi di conseguenza dell'apporto di elementi chimici fungicidi e quant'altro continuiamo con una nuova sessione idee green ad alta efficienza saranno qui con noi il titolare di Sun Service energie rinnovabili ovvero Antonello Palmas per Zucchetti Centro Sistemi il responsabile della divisionale robotica Massimo Innocenti per Graziella Smart Technology l'ingegnere Cristian Farnetani chi è che cosa è che cosa fa la Sun Service Sun Service è un'azienda un'SRL oggi è un'azienda che nasce 15 anni fa ha iniziato a occuparsi di solare termico distribuzione di pannelli solari per la produzione di acqua calda sanitaria nasce nel 2000 nel 99 non sapevo neanche che cosa fossero i pannelli solari mi fu venduto un pannello solare da uno di Torino da un signore di Torino in Sardegna dove mi spiegava che il sole scaldava l'acqua ecco da lì è iniziato prima da cliente poi questa grande passione per il mondo delle energie rinnovabili dopo nel 2005 l'evento del fotovoltaico 2007 con il primo conto energia e poi abbiamo iniziato occuparci di tutto ciò che è riqualificazione energetica a 360 gradi interventi di natura impiantistica e interventi di natura edile grazie alla Smart Technology è un'azienda molto giovane nata nel 2013 all'interno di una holding della Toscana che si occupa fondamentalmente nella ricerca e innovazione tecnologica riguardante l'architettura architettura nuova architettura quindi tecnologia rivolta al risparmio energetico e all'efficienza delle nuove strutture architettoniche che sono presenti sul territorio la prima parola che ti passa per la testa è risparmio perché in cosa consiste cioè è sempre c'è ormai questo binocchio esattamente sì intanto siamo dobbiamo cambiare il modo di vedere il concetto del risparmio noi eravamo abituati anzi in verità lo siamo tuttora a concepire il risparmio come la privazione cioè risparmiare nella testa delle persone significava privarsi di un qualcosa oggi invece stiamo inserendo un nuovo concetto di risparmio risparmiare anzi spendendo meno per avere di più aumentando il comfort quindi è un nuovo concetto di risparmio che non è quindi privazione ma è avere molto di più quindi noi stiamo vivendo un momento particolare l'azienda Sun Service nasce nel 2000 quindi nasciamo subito dopo il primo accordo più importante sull'ambiente si è iniziato a parlare di ambiente nel mondo nel 1997 con l'accordo di Chioto e io ritengo che questo sia un momento storico io lo definisco anche rivoluzionario e sono convinto che tra 30 anni di questo momento si parlerà di un momento rivoluzionario perché stiamo passando dall'utilizzo di tecnologia che sfruttava solo quello che veniva dal sottosuolo carbone gas petrolio e dopo 60 anni che abbiamo estratto ciò che il mondo è riuscito a mettere sotto i milioni di anni lo abbiamo estratto bruciato e creato tutti i disastri che oggi conosciamo abbiamo iniziato finalmente a mettere a disposizione dell'umanità quella tecnologia che sfruttasse ciò che madre natura in abbondanza ci mette a disposizione tutti i giorni acqua sole vento silicio litio e quindi questo è il passaggio culturale oggi io penso che la tecnologia sia importante nel momento in cui questa tecnologia serva per l'uomo nel momento in cui questa tecnologia è una tecnologia finalizzata fine a se stessa questa tecnologia non serve assolutamente a nulla com'è che Zucchetti Centro Sistemi e la Robotica hanno iniziato a occuparsi e interessarsi di energie rinnovabili anche grazie anche grazie Ambrosio una serie ci sono una serie di motivi ne cito due come motivi principali ci sono situazioni in cui non è semplice portare energia elettrica dove ne abbiamo bisogno pensiamo ai campi da golf pensiamo a grandi parchi pensiamo a giardini privati di grandi dimensioni magari suddivise in diverse aree e quindi in questi casi portare energia elettrica vuol dire fare uno scasso nel terreno tempo soldi insomma ci sono varie cose da fare un altro motivo è perché i nostri clienti stanno sempre più negli anni chiedendo che i prodotti siano ecocompatibili che ci sia un occhio di riguardo verso l'ambiente sia dal punto di vista dell'inquinamento che del consumo ambrogio non inquina non utilizza idrocarburi ma si alimenta da energia elettrica come sappiamo tutti l'energia elettrica è in parte prodotta da fonti rinnovabili e quindi perché non fare quel passo in più e da lì appunto è nato il MyElios che è un pannello solare con le batterie di accumulo quindi l'oggetto si compone appunto da questo pannello solare che produce energia l'energia viene accumulata su delle batterie in litio perché non ricordiamoci non ci dimentichiamo che il pannello solare produce energia però questa deve essere utilizzata se non viene utilizzata o la mandiamo in rete o va dispersa accumulandola sulle batterie noi la possiamo restituire ad Ambrosio quando serve quindi di giorno di notte quando le batterie sono scariche questo va incontro a queste due principali richieste che è quella di rendere il robot completamente autonomo e staccato dalla rete elettrica o nel caso in cui sia complicato portare energia elettrica in luoghi distanti o di renderlo più eco compatibile e quindi di ridurre al minimo l'energia richiesta alla rete elettrica magari sottodimensionando il pannello o le batterie per utilizzare al minimo l'energia questo è uno dei motivi per cui siamo entrati in questo settore Qual è appunto l'attenzione alle tecnologie la vostra attenzione alle tecnologie più avanzate? Esatto noi ci occupiamo di domotica come detto all'inizio sono venuto a conoscenza di Zucchetti proprio perché affrontiamo la domotica come detto da Bernini all'inizio in maniera professionale più pesante cioè interveniamo sull'impianto esistente su una struttura quindi se partiamo da un edificio di nuova costruzione di nuova generazione le cose vanno bene e vanno lisce tutto funziona e tutto si può realizzare tutto può funzionare con il tocco di un dito come si suol dire quando invece andiamo a intervenire su ristrutturazioni o nuovi o riqualificazioni di edifici la cosa diventa molto più complicata perché dobbiamo smantellare completamente un impianto elettrico esistente Zucchetti con l'idea del gruppo ha realizzato questo nuovo pulsante questo nuovo switch che comunica tra di loro tramite una rete wifi che può essere quella già installata presente in ambiente oppure che lui stesso genera un segnale wifi di comunicazione tra tutti i dispositivi e che può dialogare con qualsiasi dispositivo smartphone piuttosto che dispositivo collegabile ad internet per essere gestito questa dà la possibilità a qualsiasi utente a qualsiasi persona di avere una casa domotica in maniera semplificata cioè che si occupa solamente di alcuni argomenti all'interno dell'abitazione che può essere il riscaldamento la climatizzazione l'illuminazione l'apertura di un cancello di una porta questo può dare il là all'utilizzo della domotica quarta sessione cambiamo il tema i sistemi di tracciabilità per il risparmio in azienda e la tutela dell'ambiente sul palco con noi il direttore di consorzio pane toscano DOP Roberto Pardini il direttore del consorzio Vino Chianti Alessandro Bani il direttore della centrale del latte di Alessandria e Asti Franco Butti il collega lo presento io allora Fabio Provedi responsabile commerciale software division perché è importante tracciare appunto il prodotto prima di tutto ora noi siamo questo è per precisare siamo in attesa ancora della denominazione di origine protetta perché proprio in questi giorni stiamo definendo le ultime particolari con Bruxelles la DOP per definizione ha l'obbligo di avere un organo di controllo esterno che comunque fa la tracciabilità però quello che a noi interessava era avere un risponso in tempo reale perché noi sappiamo attraverso il CSQA che è l'organo di controllo che seleziona insieme agli agricoltori partendo dai sementi perché il rischio è che il grano può essere anche riprodotto ma non è quello originale partendo dai sementi fino alla panificazione però i tempi di risponso poi sono lunghi lo strumento invece che abbiamo utilizzato con la Zucchetti ci dà un tempo reale giornalmente noi sappiamo il panificatore ci dice quanto pane ha prodotto tutti i giorni e questo ci dà la possibilità di controllare il prodotto perché sembra semplice il pane acqua e farina ma proprio la volontà di tutelarlo al massimo abbiamo scoperto che poi oggi noi mangiamo un prodotto che non ha niente a che fare né con l'acqua originale né con la farina il problema grosso del pane è che tipo di grano usa noi abbiamo selezionato dei grani che danno una qualità del pane che ci riporta al vero pane toscano pertanto il panificatore giornalmente che mi clicca quanti quintali di pane ha prodotto io lo confronto con quanta farina ha acquistato e pertanto è diventato indispensabile il software perfetto stessa cosa immagino sia successa anche per il vino c'era un bisogno di un qualche cosa di software per poter tracciare le bottiglie il settore agricolo è ancora un pochino più indietro diciamo così rispetto a tutte le belle cose non avete il tablet o lo switch no non sempre anche perché gli operatori non lavorano dei agricoli non lavorano negli uffici ma lavorano all'aria aperta e quindi spesso e volentieri manca anche la linea veloce e purtroppo c'è anche un'età avanzata e quindi gli danno del lei al computer per cui diciamo così non è sempre così diffusa questa abitudine di lavoro comunque io proprio stamattina ero a un convegno della commissione parlamentare anti contraffazione che si è svolta qui in Expo e dalle cose che sono venute fuori emerge ancora più chiaramente come sia necessaria questa tracciabilità del del percorso che fa il prodotto l'informatica in questo caso vi ha aiutato grazie alla gestione dell'informatica ci aiuta nella fase finale nel senso io produttore agricolo devo tenere una contabilità purtroppo devo tenere una contabilità cartacea o informatica che sia qualcuno in maniera un po' forte dice come se fosse droga perché sono talmente tante le registrazioni i passaggi che si devono fare che comunque appare tutto evidente nei documenti una volta fatto il prodotto finale è quello che va appunto come dicevo prima alla degustazione e all'analisi chimica in ultimo attraverso l'etichetta si riesce a capire tante cose anche questo è un passaggio che fa parte della tracciabilità sia di chi ha fatto il prodotto sia da chi l'ha imbottigliato se fosse un soggetto diverso e poi dalla fascetta ecco qui la parte informatica entra a piedi pari si riesce a capire quella bottiglia di che l'otto ha fatto parte chi l'ha esaminata chi l'ha assaggiata e praticamente il consumatore basta che inserisca il numero della fascetta su un sistema del nostro organismo di controllo che si chiama TCA e ottiene tutte queste informazioni che ovviamente sono la parte finale di tutto quel processo che è tracciato attraverso tutta una serie di registri o un sistema informatico che sia grazie mille passiamo adesso abbiamo fatto il pane il vino il latte per forza per voi com'è invece l'esperienza per la tracciabilità certamente noi siamo da questo da questo punto di vista siamo favoriti perché la centrale vabbè intanto è un'esperienza dal 1931 poi la centrale di cui stiamo parlando è una società che ha 62 anni 63 anni nella forma attuale dicevo che quanti allevatori convergono alla centrale oggi 12 quindi noi imbottigliamo solo ed esclusivamente il prodotto di quei 12 allevamenti che sono sparsi in un raggio che sono sparsi in un raggio di non più di 25 chilometri da Alessandria e evidentemente producono una quantità di latte importante quindi stiamo parlando di realtà agricole importante che hanno attività intense perché nel 99 noi abbiamo stabilito con gli allevatori un protocollo di intesa che imponeva l'autoproduzione della maggior parte dei mangimi si parlava di circa il 65% almeno dei mangimi all'interno delle varie aziende Zucchetti Centro Sistemi come è arrivata a questo perché partiamo come ho detto prima anche per la robotica partiamo comunque da un'azienda leader nel software nel gestionale come si arriva poi a poter fare prodotti che aiutino in questo modo intanto siamo una realtà che è locata in una zona diciamo a vocazione agricola perché non siamo nel centro di Milano né nel centro di Roma quindi nella nostra attività quotidiana siamo venuti in contatto sicuramente anche con aziende alimentari o comunque della filiera alimentari molto presto e poi il nostro supporto in questo caso è quello di capire qual è il processo che l'azienda intende mettere sotto controllo e fornire quelli che sono gli strumenti tecnologici o i software conseguentemente più adatto per la risoluzione del problema stesso certamente in questa attività che noi facciamo ci mettiamo l'esperienza che abbiamo sviluppato anche in altri mercati quando si parla di tracciabilità per esempio nel mercato del fashion è da tantissimi anni che la tracciabilità esiste quindi le nostre esperienze in questo caso sono state riportate nella realizzazione di quei programmi e nella realizzazione diciamo di quelle tecnologie faccio un esempio aprire il portale per fare in modo che i signori che fanno parte nella filiera del pane toscano possano andare a mettere le informazioni è una cosa che è stata verticalizzata naturalmente per la loro esigenza ma che da un punto di vista dei progettisti software affonda anche le radici in quella che era l'esperienza fatta in altri mercati cambiano naturalmente le logiche cambiano naturalmente i temi che vanno tenuti sotto controllo ma noi possiamo portare un contributo di esperienze già fatte quello che noi diciamo lo slogan rappresenta è proprio l'essenza del nostro modo di fare software cioè noi vogliamo fare un software che coccoli l'azienda non vogliamo dare un prodotto standard né un prodotto standardizzato certo una base comune ci deve essere non possiamo riscrivere sempre tutto da capo ma poi a braccetto con il nostro partner vogliamo mettere a disposizione quelle che sono le esperienze fatte Fabio ma le coccole finiscono con la consegna del software oppure c'è qualche altro che tipo di supporto date all'azienda una volta ha fatto il software consegnato installato e poi una volta ha dato il software consegnato installato c'è una fase di assistenza che ovviamente è un'assistenza che viene fatta diciamo in maniera tradizionale cioè con un app line telefonico ma anche attraverso sistemi di internet in cui il cliente chiama può registrare la propria chiamata e anche vedere a che punto è la richiesta di assistenza che ha fatto e quindi sollecitarla anche magari attraverso sistemi internet quindi l'azienda non è mai sola e cresce il vostro prodotto cresce con l'azienda a seconda delle esigenze ora magari dico una cosa scontata però è veramente una cosa per noi importante certo il cliente ma per noi ogni cliente è un partner è una partnership dove ognuno evidentemente cerca di portare a casa il proprio marzo il proprio guadagno ma approcciare un partner piuttosto che un cliente o un fornitore dall'altra parte fa una bella differenza allora io direi di rimanere sempre in tema consorzi e tema agricoltura e invito il direttore della confagricoltura di Oristano Roberto Serra e il direttore del centro agricoltura Piceno Valeria Senisi parliamo di appunto tracciabilità a livello territoriale qual è stata la sua esperienza a Oristano nella zona che voi seguite allora buonasera a tutti praticamente come diceva prima il tecnico del centro sistemi noi sul settore ovino grazie al supporto e Giorgio Pala stanno portando avanti una ricognizione dal punto di vista della tracciabilità per il lato ovino però praticamente tutte le aziende ormai o perché il mercato soprattutto a livello di grande distribuzione chiede una tracciabilità si stanno dotando di sistemi diversi di controllo di gestione quindi di tracciabilità e di intracciabilità del prodotto alimentare sicuramente sicuramente per quanto riguarda la nostra provincia una piccola provincia agricola che però vanta tutte le produzioni dalle ortive al riso dall'allevamento al vino a quello bovino un po' di caprino e tutto quello che è il cereale o comunque i prodotti che da un punto di vista vengono considerati di nicchia per quanto mi riguarda e per la mia organizzazione non è una nicchia ma sono settori che appunto forse non danno grandi numeri vista la piccola provincia però danno grandi risultati in termini di qualità però come sappiamo oggi la qualità non basta più per competere all'interno del mercato ma uno dei valori aggiunti appunto è quello della tracciabilità e l'intracciabilità sicuramente per quanto riguarda le aziende agricole come si diceva prima è difficile innovare è difficile stare dietro a nuovi sistemi un po' perché l'età anagrafica degli agricoltori e allevatori è alta quindi parliamo di persone che sono oltre 50 anni oltre più vicine ai 70 e poi anche perché dal punto di vista dell'innovazione è un settore molto è un settore statico sebbene riconosciuta la sua ciclicità però quindi ha una capacità di adattarsi ai cambiamenti e comunque portare avanti l'innovazione con molta lentezza anche perché ci vorrebbero i giovani che molto spesso però non sono più interessati sono disegno innamorati di questo settore anche se poi alla fine Espo è un buon testimone l'agricoltura è al centro di tutto ciò che noi vediamo e probabilmente è anche uno dei pochi settori che oggi sta dando dei risultati in termini di occupazione in termini di lavoro e perché no anche in termini di reddito lei è l'amministratore delegato del centro agroalimentare Piceno allora di che cosa si occupano gli associati del centro agroalimentare una brevissima sintesi il centro agroalimentare Piceno è una società per azioni per la maggioranza partecipata da pubblico quindi da regione Marche da comune di San Benedetto del Tronto noto come località balneare che detiene l'80% circa della società è un centro di erogazione servizi uno snodo logistico di merci e attualmente ha 85 aziende insediate che si occupano di produzione e trasformazione di prodotti agroalimentari sono delle piccole e medie imprese il nostro è un tessuto imprenditoriale molto piccolo e medio quindi molto spesso si tratta di aziende agricole che non hanno la struttura e non hanno la preparazione di affrontare il mercato estero laddove il mercato interno soffre moltissimo in questo momento e allora il motivo e anche uno dei motivi fondamentali di questo rilancio è quello di puntare su questa identità sul prodotto identitario quando si parlava di tracciabilità è questo cioè noi le marche ci ha puntato tanto su questo il marchio QM che è stato introdotto nelle marche con la legge 23 del 2003 è proprio questo rapporto tra produttore e consumatore basato su una grandissima fiducia noi non vendiamo soltanto un prodotto vendiamo un prodotto di qualità rintracciabile adesso tracciabile e comunque vendiamo tutto quello che c'è dietro vendiamo quello che c'è della tradizione della nostra agricoltura volevo aggiungere che diversamente dall'azienda che appunto deve promuovere un prodotto quindi quando si parla di associazioni per esempio il collega il presidente stava dicendo che il suo problema è un po' più legato alla parte scartoffie se così posso esprimermi ebbene noi abbiamo messo a punto anche dei sistemi proprio per abbattere quella burocrazia che spesso non è dovuta anche all'enormità delle leggi o comunque alle leggi sono una sull'altra ed è un sistema che è virtuale di scrivania virtuali che mi permette di controllare l'andamento delle pratiche all'interno di un'azienda che ce l'ha in carico che attività sta facendo perché afferma su quella scrivania virtuale e così via questo crediamo che sia un contributo importante per le organizzazioni che devono comunque ottemperare a degli obblighi perché la legge gli impone di fare determinati percorsi ma nello stesso tempo non vogliono che questi percorsi diventino un elemento frenante dell'organizzazione stessa adesso passiamo dalla tracciabilità alla tracciabilità nel senso che fino adesso abbiamo parlato di tracciabilità alimentare quindi di prodotto marchio produzione eccetera adesso vediamo come invece un processo di tracciabilità permette di risparmiare per cui do subito la parola a parravicini sì anche per per capire innanzitutto che cos'è chi è che cosa fa servizi italia servizi italia si muove nell'ambito di quelli che sono definiti servizi integrati alla sanità nello specifico noleggio e ricondizionamento di biancheria piana e per sale operatorie e noleggio e ricondizionamento di strumentario chirurgico come è successo poi anche sentivo prima nell'intervento del presidente in Zucchetti abbiamo poi mutuato questo approccio alla tracciabilità portandolo anche all'interno dei processi della vanderia industriale e per assurdo abbiamo trovato in questi processi del miglioramento delle sinergie possibili che fino a qualche tempo fa pensavamo addirittura inimmaginabili che hanno portato e porteranno nei prossimi anni a dei vantaggi competitivi sì e questo è sempre un obiettivo in un'azienda tipo la nostra ma anche dei vantaggi rispetto poi all'impatto che i nostri processi produttivi hanno necessariamente su quelli che sono appunto i temi di questo dibattito quindi anche risparmi da un punto di vista economico risparmi da un punto di vista economico certamente ora si immagini lei che in un gruppo industriale come il nostro tutti i giorni processiamo 150 160 tonnellate di biancheria che vengono appunto prelevate dai nostri clienti dagli utilizzatori che devono poi essere ricondizionate secondo processi produttivi più vari a seconda della tipologia e che devono poi essere distribuiti nuovamente fino ai punti di utilizzo che sono i diversi reparti ospedalieri le inefficienze possibili in questo processo complicato sono tantissime per cui la tracciabilità ci ha permesso negli anni di normalizzare questo processo di organizzarlo di organizzare i nostri stabilimenti produttivi di ottimizzare quella che poi viene chiamata la supply chain distributiva quindi in una distribuzione molto difficile quindi in qualche modo di oggettivare il fabbisogno di ogni nostro utilizzatore tracciabilità quindi però sempre più improntata sempre più vista anche nell'ottica del risparmio e della tutela dell'ambiente sì esatto noi in questi ultimi anni abbiamo sviluppato secondo quello che un po' si diceva prima secondo questa attenzione verso l'ambiente verso i nostri macchinari noi si è creduto grazie anche a investimenti che ha fatto la direzione aziendale nel nostro settore a uno sviluppo di macchine però una macchina di sempre andando a cercare nuovi concetti sia nuovi concetti nell'utilizzo quindi da questo sono nate negli ultimi anni diversi macchinari che prima che nascono da una concezione cioè da andare a un pensare a una cosa che non esiste cioè andare a risolvere un problema andare a vedere oltre quell'oltre che prima il presidente Bernini diceva tutto questo però nasce anche da un'attenzione forte delle nostre macchine verso l'ambiente in questi ultimi anni noi si è cercato di produrre macchine che siano tutte a basso voltaggio basso voltaggio questo cosa vuol dire andare a produrre macchine che lavorano su una bassa tensione permette di poter andare verso quella strada che già in un qualche modo è intrapressa dalla robotica con il prodotto d'ambrogio quindi poter andare a installare macchine con all'interno delle batterie batterie l'idea appunto andiamo a prendere le stesse che attualmente va a utilizzare la robotica quindi questo vuol dire avere delle macchine che hanno un'autonomia un'autonomia che a seconda di quello che vanno a fare può essere fino anche a 4-5 giorni secondo i test che abbiamo fatto noi la bassa tensione l'utilizzo delle batterie apre ovviamente tutto al mondo di poter andare a utilizzare quelle energie rinnovabili quindi quell'Elios che ci hanno presentato prima e tutto quel mondo grazie alle quali con l'utilizzo della bassa tensione delle batterie è possibile si apre anche verso delle macchine che bisogna pensare che sono macchine che vanno in ambito industriale quindi andare a pensare all'interno di un'industria produttiva perché qui si parla di industrie produttive i numeri che ci diceva prima il signor Paravicini non sono numeri di una piccola azienda o di una grande azienda andare a introdurre questi concetti anche in realtà produttive molto grandi per noi questo è quel pensiero diverso che appunto si diceva all'inizio allora parliamo di futuro dicevo iniziando perché parliamo di mobile parliamo di app applicazioni e ormai per tutti per tutti sono le app da utilizzare su qualsiasi piattaforma immagino sia Android che iOS insomma per il mondo Apple e destinate immagino sia a privati che aziende o solo a chi le destiniamo assolutamente ad aziende ma anche a privati perfetto ci sono vari progetti nelle varie divisioni e alcuni progetti vedono interessate le aziende altri invece andranno in mano all'uso e andrà in mano assolutamente ai privati come ad esempio lo switch wireless che di cui è stato parlato negli interventi precedenti ma come nasce questa voglia questa nuova esigenza questa nuova voglia in Zucchetti Centro Sistemi di dedicarsi alle app le app è veramente una cosa recentissima perché c'è subito sei solo c'è già un team come sta funzionando questo bisogno allora guardi Centro Sistemi ovviamente già da quando questa tecnologia è entrata a far parte della nostra vita è entrata a piedi pari a far parte della nostra vita con delle prime esperienze diciamo ci si è buttata subito con dei progetti l'uso starita per The Bridge il ponte pelletteria però meglio da tutti conosciuti col brand appunto The Bridge allora come funziona come è cambiata la vita in azienda grazie a questa app beh innanzitutto il ponte pelletteria appunto più conosciuto appunto con il macchio The Bridge è un cliente è un partner storico della Zucchetti Centro Sistemi diciamolo noi ci conosciamo molto bene da circa nove anni e l'app è stato diciamo il prolungamento necessario e inevitabile dello sviluppo dei sistemi informatici nell'azienda nel nostro caso copre un settore ben specifico che è la parte del catalogo delle immagini quindi dei nostri prodotti non si va più con cartaceo non si va più con una mazzetta di pelle non si stampa più non si va più in tipografia mi dispiace per i tipografi e si usa appunto un tablet con un'app e quindi la qualità delle immagini sappiamo bene che ormai su questi dispositivi è notevole quindi si parla quindi di catalogo digitale e si parla anche ovviamente di inserimento degli ordini cioè gestione degli ordini da parte della nostra rete di agenti in tutta Europa mediante appunto questa nuova app prima era il web e ora è l'app Queen è una società che nasce ormai 21 anni fa e che si è occupata inizialmente di ingegneria dell'organizzazione per cui ci siamo sempre occupati di persone e di processi da questo è venuto fuori che poi abbiamo sviluppato attività nel settore della formazione perché sempre questa era completamento della nostra consulenza per quanto riguardava i processi organizzativi e da quest'anno abbiamo avuto spero la fortunata idea di acquisire anche una società che si occupa di medicina perché questo diciamo veniva a chiudere il nostro discorso occupandosi di organizzazione pensavamo sia al benessere aziendale sia alla sicurezza e alla salute su luoghi di lavoro questa società diciamo sicurmedica di cui abbiamo acquisito la maggioranza si occupa di medicina del lavoro quindi in qualche modo riusciva a completare tutto questo non occupandosi però solo di medicina del lavoro ma anche di medicina specialistica il nostro interesse a questo punto sulla salute della persona sul benessere della persona è diventato globale perché abbiamo circa 40 medici specialisti che operano nelle nostre sedi di Montevarchi e di Cortona e da qui è venuto fuori appunto il contatto con Zucchetti Centro Sistemi proprio perché a noi serviva diciamo tutta quella conoscenza di tecnologia che noi non possediamo e che invece Zucchetti Centro Sistema possiede e riteniamo che da questo binomio possa nascere un futuro sviluppo su un progetto in comune che per ora abbiamo diciamo chiamato telemedicina in maniera molto allargata però stiamo focalizzandolo e siamo già a un buon punto allora ce lo facciamo raccontare proprio il progetto da Simone Simone Nosi telemedicina diciamo parola un po' troppo allargata però è comprensibile soprattutto dopo la sua spiegazione perché telemedicina significa riuscire a portare riuscire a portare la competenza medica vicino al paziente sfruttando le app e dispositivi mobile e quindi noi avevamo già intrapreso un percorso di telemedicina anzi le app le prime app in Zucchetti Centro Sistemi sono praticamente state prodotte proprio per un progetto di telemedicina in collaborazione con il nostro partner Almenarini un'app dedicata al problema dei diabetici il diabetico periodicamente deve andare dal medico deve compilare un registro dove si registra la glicemia questo registro può essere affetto da errori a volte involontari a volte voluto perché il paziente diabetico è un paziente bugiardo perché si vergogna delle proprie debolezze e allora la nostra idea è stata far fluire dal glucometro che è lo strumentino che il diabetico usa si fa il buchino nel dito mette la goccia di sangue lo strumento rileva la glicemia lo passa allo smartphone che gli tiene il diario questa informazione va direttamente al centro antidiabetico e quindi il medico riesce a vedere le informazioni che riguardano il paziente ancora prima di vedere il paziente che mettere il sangue nel display era ancora un po' troppo sì era un po' troppo ce lo riserviamo per il futuro c'è bisogno di questo passaggio in più insomma qui diciamo sono state fatte diverse diverse esperienze perché queste app poi dal nostro partner sono state tradute in dieci lingue esportate in quindici paesi che sono diciamo quelli in cui il nostro paesi europei nel quale il nostro partner ha delle filiali e diciamo sono state liberamente scaricate dai pazienti si contano ad oggi dall'inizio fino al 31 circa 17.500 download alla fine d'agosto che per un'app chiaramente non sono numeri delle app di gaming dei giochi però per una app medicale diciamo è un è un buon numero vuol dire che c'è interesse e soprattutto una cosa interessante è che ci sono state delle sperimentazioni in due paesi la Croazia e l'Olanda l'Olanda l'ha iniziata già anni fa e adesso è già la seconda fase quindi dalla fase di sperimentazione cioè di stadi è già alla fase di di pilot pilot significa da mille a tremila pazienti seguiti direttamente da gli abitologi in questo modo Queen dove dove diciamo Queen con Zucchietti Centro Sistemi come primo obiettivo credo che sia quello di riuscire a portare dalla visione le app da una visione di paziente a una visione di cliente se noi riusciamo a far questo e pensiamo più che alla malattia non solo alla malattia ma anche al benessere allora a questo punto quel numero che ci diceva Primanosi incrementa in maniera decisa per far questo bisogna che tecnologia e persona si fondino bene io ricordo ancora di aver studiato su un'antologia quando facevo le superiori che si chiamava umanesimo e tecnica ecco due parole difficilmente coniugabili però la cosa vincente per noi è proprio cercare di avere questa coniugazione ringrazio Zucchetti Centro Sistema di avermi invitato grazie Alaria grazie a Fravizio Bernini per me è stato un piacere soprattutto capire quello che di bello sta succedendo grazie lasciatemelo dire sono molto campanellista in questo momento però grazie a un'azienda valdarnese che sta portando il nome del valdarno proprio nel mondo e quindi grazie grazie di cuore a voi grazie grazie grazie